Ecco i trucchi che usano gli italiani per avere il reddito di cittadinanza anche con un ISE alto. Come sapete, per il reddito di cittadinanza è necessario avere un ISE non superiore a 6.000 euro, che diventano 9.360 per chi sta in affitto. Il primo dei trucchi usati dagli italiani per avere il reddito di cittadinanza anche con ISE alto è tanto semplice quanto vecchio. La finta separazione con rinuncia al mantenimento. In pratica, i coniugi simulano una separazione consensuale in tribunale. La donna, che di solito è il coniuge economicamente più debole, forma nucleo familiare a sé stante e presenta un proprio ISE distaccato da quello del marito e quindi più basso di quello che avrebbe avuto se fosse rimasta formalmente sposata. Per rendere poi più credibile la separazione, i due ex coniugi fissano una diversa residenza. In questo modo la donna può ottenere il reddito di cittadinanza. Il secondo trucco per avere il reddito di cittadinanza è invece quello di ridurre in modo artificioso la giacenza media del proprio conto corrente, consegnando i propri risparmi alla banca e facendosi per contro rilasciare un assegno circolare. L'assegno viene intestato allo stesso richiedente o a un suo familiare e poi custodito personalmente dal richiedente stesso. In questo modo le somme scompaiono dal conto corrente e di esse non c'è più traccia, sicché si abbassa anche ISE. Questa purtroppo è la loro legge.